Buongiorno, buon pomeriggio, abbiamo avviato la riunione, intendiamo registrare questa nostra presentazione, quindi vi chiediamo chiaramente il consenso, siete informati, la registriamo perché riteniamo che quello che verrà detto, spiegato e illustrato possa essere poi utile per i soggetti che vorranno candidarsi ai due avvisi e quindi verrà lasciata la registrazione di questo webinar a disposizione sul nostro portale nella sezione dedicata alle case, gli studi degli illustri e i cimiteri, dove trovate anche l'avviso. Gli iscritti partecipanti a questo webinar sono 50, quindi vi chiediamo ancora qualche minuto di attesa, inizieremo alle 15 e 10 perché vediamo che stanno aumentando gradualmente i partecipanti. Grazie 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 Buon pomeriggio, aspettiamo ancora qualche minuto perché stiamo registrando l'accesso di altri partecipanti, iniziamo alle 15 e 10. Grazie 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 Buon pomeriggio a tutti e a tutte le persone collegate. Ci presentiamo, settore patrimonio culturale, io sono Cristina Ambrosini, la responsabile del settore, con me ci sono Claudia Collina che è responsabile dell'ufficio valorizzazione patrimonio culturale, con i colleghi collaboratori Maura Morizzi e Vittorio Ferrorelli che afferiscono al stesso ufficio della valorizzazione del patrimonio culturale. Con noi c'è anche Maria Elena Tosi che ringrazio, che ci supporta per la parte tecnica, per la realizzazione di questo webinar. Abbiamo voluto dedicarci queste ore pomeridiane insieme a voi, vi ringraziamo per aver raccolto l'invito a partecipare, perché vogliamo presentarvi insieme, in modo strutturato, io farò solo un'introduzione ma lascerò la parola a Claudia, a Maura e a Vittorio in particolare poi, per presentarvi i due avvisi che afferiscono le due recenti leggi regionali di riconoscimento e valorizzazione di patrimoni culturali, a cui la regione Emilia Romagna sta dedicando molta attenzione, molta e anche concreta attenzione. Uno riguarda le case di studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna e l'altro riguarda i cimiteri monumentali e storici. Come voi sapete sono due leggi che hanno soltanto due anni di vita, perché sono entrambe state emanate nel 2022, sono le nostre creature, chiamiamole così, perché sono state pensate, elaborate e anche sono in fase di attuazione per il primo triennio, con soggetti potenziali beneficiari che siano appunto referenti di case e studi delle persone illustri o appunto soggetti proprietari o gestori di cimiteri. Perché abbiamo voluto questo webinar? Perché abbiamo già alle nostre spalle l'esperienza di una prima edizione di avvisi pubblici, sia riguardanti le case di studi degli illustri che i cimiteri, avvisi che hanno riscosto un notevole successo. Ma come è nostra usanza, non solo proponiamo e attuiamo e accompagniamo i processi e i progetti che realizziamo, che voi realizzate con i contributori anche della regione, ma ci interroghiamo sull'esito di questi processi e di questi progetti e sulle modalità anche più concrete per poterli verificare, rendicontare, quindi anche da un punto di vista amministrativo. Ci rendiamo conto che per soggetti che non siano quotidianamente abituati a rapportarsi con la pubblica amministrazione, partecipare a questi avvisi e quindi aderire a delle modalità anche di compilazione, di rapporti, di comunicazione, di rendicontazione, così come ovviamente ve li stiamo proponendo e che avete come documentazione già disponibile sul nostro sito da quando i due avvisi sono stati pubblicati, mi parlo in contemporanea, il 4 di marzo, tutta questa parte che è consistente, perché è consistente nel rapporto che i nostri uffici hanno con i soggetti che hanno intenzione di aderire a questi avvisi e di proporre delle candidature sia di riconoscimento delle case o dei cimiteri, ma anche candidature di progettualità da sottoporre poi a valutazione. E quindi è per questo che abbiamo maturato l'idea che fin da questa fase, quindi gli avvisi sono ancora aperti, voi starete immagino se siete qui partecipate immaginando di partecipare agli avvisi, di fare delle proposte e avrete anche delle domande o delle questioni da porre o degli aspetti non chiarissimi, quindi cercheremo per come abbiamo strutturato l'incontro, di fornirvi quegli elementi informativi ma anche procedurali che sull'esperienza in particolare di Claudia, di Maura e di Vittorio abbiamo avuto modo di constatare che possono in alcuni casi rappresentare degli ostacoli o degli elementi poco chiari. Speriamo di farvi cosa gradita con questo incontro di accompagnamento anche alla compilazione e non soltanto a una sottolineatura di quelli che sono gli obiettivi di questi avvisi, le finalità, i contenuti e i requisiti per poter partecipare. Vedrete che nei nostri intenti c'è la volontà di esservi il più possibile d'aiuto e di cominciare a conoscere i soggetti che poi si affacceranno per questi progetti e incontreranno il nostro settore. Quindi io lascio la parola a questo punto a Claudia Collina e diamo inizio alla parte strutturata del nostro webinar. Grazie a tutti per la partecipazione e per la pazienza nell'ascoltarci. Grazie Cristina e grazie a mia socia e ai tuoi ringraziamenti e a tutti i nostri stakeholders che sono interessati a conoscere le modalità di partecipazione dei nostri due avvisi. Io voglio solo dare una ulteriore nota tecnica. Abbiamo strutturato questo webinar in modo che ci siano le domande e le risposte. Non scrivete nulla in chat perché non funziona. Funzionano domande e risposte che sia Vittorio, sia io che Maura raccoglieremo quelle più salienti e significative e restituiremo le risposte. Negli ultimi dieci minuti abbiamo previsto invece di lasciarvi intervenire direttamente con le vostre questioni che non fossero state ancora trattate da noi o nelle domande e risposte. Avvio la mia breve presentazione. Ecco, con le leggi di riconoscimento e valorizzazione delle case e studi degli illustri e dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna, l'ente Regione coglie l'occasione per introdurre nuovi strumenti di attuazione per ulteriori attività di valorizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale. Si tratta di due interventi in coerenza con lo Statuto regionale che prevedono che la regione ispiri la propria azione all'obiettivo del riconoscimento e della valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storiche che caratterizzano le comunità residenti nel proprio territorio e dei complessi monumentali cimiteriali, al fine di agire per la promozione e il sostegno della cultura, favorendo la conservazione dei beni culturali e allargandone la loro fruizione pubblica. Ecco, vado subito in media stress ai criteri per il riconoscimento della legge regionale degli illustri che mutuano, sono decisamente collegati all'articolo 2 della stessa legge e appunto le strutture interessate sono quindi unite dalla filosofia dell'abitare e del lavoro intellettuale ma anche dall'appartenenza territoriale del personaggio illustre e della sua eredità patrimoniale e culturale e questo è il primo obbligatorio passo per poter far parte della rete e accedere ai futuri finanziamenti previsti quindi l'articolo 2,1 è di particolare cogenza. Poi nel 2023, a un anno dalla... modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della suddetta legge specificando la necessità che siano definite con titolo case e studi delle persone illustri anche quelle strutture che prioritariamente e totalmente sono dedicate alla promozione del personaggio che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del comma 2 e in casi veramente speciali ai sensi dei requisiti minimi elencati dal suddetto comma 2 possono richiedere il riconoscimento anche quelle strutture che siano dedicate totalmente e prioritariamente alla promozione del personaggio illustre ma che abbiano anche le caratteristiche di museo monografico. Allora, cosa significa una casa museo e un museo monografico? Andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio per aiutarvi poi a presentare le domande. Allora, innanzitutto sono due tipi di istituzioni museali con scopi diversi. La casa museo è una struttura che ha funzionato come residenza di una persona famosa o di rilievo storico, insomma di chiara fama. Essa viene aperta al pubblico che è un altro dei requisiti e trasformata in un museo per mostrare come viveva e lavorava il suo famoso abitante quindi è un'abitazione. Le case museo sono spesso arredate con gli arredi originali dell'epoca e possono contenere oggetti personali opere d'arte e altri oggetti appartenuti al proprietario originale. L'obiettivo principale di una casa museo è quello di preservare e mostrare la vita e il contesto storico della persona che vi ha abitato. Quindi è molto importante il genius loci. Cos'è un museo monografico? Un museo monografico si concentra esclusivamente su una singola persona un singolo argomento o un singolo periodo storico. È un tipo di museo che può essere dedicato a un artista uno scienziato una figura storica un periodo specifico un arredo un oggetto specifico pensate al museo della bilancia. Quindi il museo monografico espone a opere d'arte oggetti, documenti o altri materiali relativi a una persona o all'argomento che tratta. Il suo obiettivo è l'approfondimento la comprensione e lo studio di un particolare soggetto oggetto o periodo che fornisce al pubblico una visione dettagliata mirata e approfondita. Quindi in sintesi mentre una casa museo si concentra sulla residenza storica di una persona illustre un museo monografico si concentra sull'esposizione e lo studio approfondito di una sunghia alla persona illustre perché questa legge tratta delle persone illustre quindi indipendentemente dalla sua connessione con una residenza o con una abitazione. Quindi è una cosa di non poco conto e le caratteristiche di quest'ultima tipologia saranno analizzate in fase istruttoria perché ovviamente non basterà una scrivania in una sede espositiva per fare di questo una casa d'illustre. Dunque, venendo al nostro avviso affinché le case degli illustri possano riconoscersi degli studi degli illustri e tenendo quindi tutti riconosciuti sotto una medesima etichetta di prestigio. Tenuto conto del lavoro del sistema museale regionale che con il look cioè i livelli unitari di qualità ha implementato un questionario come valido parametro di verifica di raggiungimento degli standard minimi di qualità e di supporto per la definizione di obiettivi di miglioramento il sistema di riconoscimento delle case degli studi degli illustri con il marchio ha la fondamentale funzione di indirizzare con qualità in base alle risposte da voi date in questo questionario influenzare con qualità le politiche regionali nell'ambito appunto della legge quindi sono destinatari del riconoscimento e possono partecipare al riconoscimento del marchio comuni e le società e le società di diritto privato scusa Claudia puoi ripetere perché c'è stato un momento di break out e non l'hanno credo sentito sui destinatari del riconoscimento forse sì 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 ok grazie Cristina sono destinatari del riconoscimento e possono partecipare comuni e unioni di comuni associazioni fondazioni e istituzioni senza fine di lucro privati cooperative sociali on loose e società di diritto privato stiamo parlando del riconoscimento come vengono appunto valutate queste domande con dei punteggi in base al vostro questionario con dei punteggi che voi conoscete bene perché li avete pubblicati li vedete pubblicati nell'avviso io ve li ho riprodotti perché voi li vedrete pubblicati però vorrei farvi sentire il peso del primo del primo criterio scusate ossia la capacità di rappresentare la vita le tradizioni i valori del personaggio di chiara fama che vi ha abitato o svolto la propria attività nella sua dimensione pubblico privata o in casi veramente speciali ha avuto la sua formazione specialistica come nei casi degli studi ecco è un punteggio piuttosto alto così come lo svolgimento qualora si affacciasse appunto al riconoscimento una una casa uno studio che ha già svolto dell'attività pregressa lo svolgimento di attività volte alla conoscenza dell'opera del personaggio a cui la struttura è intitolata quindi che siano dedicate alla promozione del personaggio quindi insomma la valorizzazione del personaggio illustre è sempre il tema portante e più cogente un'altra condizione molto importante è quella dell'apertura al pubblico almeno per 60 giorni all'anno anche non continuativi ma al suo appuntamento però devono essere case aperte e un punteggio che è apparentemente minore ma che a noi offre un parametro di valutazione molto positiva sulla solidità della struttura che fa domanda di riconoscimento è la gestione economica e finanziaria rappresentante appunto mediante la documentazione contabile poi comunque Maura Murizi sarà più esplicita di me in merito insomma per poter accedere al riconoscimento il minimo sono 60 punti su 100 di quanto appunto abbiamo visto con questi criteri la valutazione e lo strumento appunto per valutarvi è proprio il questionario per il riconoscimento che voi trovate all'allegato C e che compilate sulla ci perdiamo ogni tanto con la voce un attimo dei criteri per la valutazione delle domande dei contributi nel medesimo del medesimo avviso sono beneficiari dei contributi degli illustri le associazioni le affondazioni e istituzioni senza fine di lucro avente sede legale in Emilia Romagna le unioni di comuni i comuni e i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della delibera 283 del 2023 ossia mentre l'anno scorso appunto per volontà proprio del settore c'è stata la decisione di procedere in maniera graduale rispetto a questa legge veramente sperimentale e quindi abbiamo fatto prima il riconoscimento e poi l'avviso per la domanda di contributi per attività di valorizzazione quest'anno abbiamo deciso di partire contestualmente questo anche per quanto riguarda i cimiteri che è speculare come avviso e quindi ci saranno nuove istituzioni nuove strutture che faranno domanda sia di riconoscimento e di contributo se avranno passato la fase istruttoria di riconoscimento potranno anche essere valutate e nell'ambito del contributo se invece non raggiungeranno i 60 punti di riconoscimento questo parlo per le nuove saranno insomma ci sarà purtroppo una una la possibilità di partecipare l'anno successivo ecco mentre chi ha avuto già il riconoscimento nel 2023 potrà tranquillamente fare solo la domanda di contributo poi Maura vi spiegherà bene con Elixform come muovermi ecco i criteri di valutazione dei progetti da cui sono escluse appunto le società di diritto privato in questo caso che invece sono ammesse al riconoscimento esatto i criteri di valutazione dei progetti di contributo hanno un'incidenza sempre molto importante rispetto al primo contributo cioè la coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicate dalla legge 2 ai articolo 2 3 e 5 ossia la coerenza con la valorizzazione del genio sloci dell'illustre ecco poi chiaramente conta anche la novità della proposta progettuale in particolare se questo progetto di attività ha anche una ricaduta sul territorio e non solo relativamente alla struttura dell'illustre un altro argomento al cui teniamo molto e che ha un suo peso è sicuramente il miglioramento della conoscenza della fruizione del patrimonio regionale con il coinvolgimento delle comunità nel senso appunto della convenzione di faro e l'attenzione ai paesaggi culturali dell'illustre e allo sviluppo attraverso appunto la valorizzazione della figura anche a itinerari e al turismo culturale e questa è la famosa ricaduta territoriale poi chiaramente il coinvolgimento di giovani è estremamente importante però diciamo che i primi due criteri creano già un bel peso e un altro peso importante ce l'hanno i progetti che includono le soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità rispetto alle barriere sensoriali cognitive e culturali quindi l'accessibilità è un altro tema molto molto importante per il settore patrimonio culturale e ultimo estremamente importante è quello della sostenibilità finanziaria del progetto ossia un progetto che abbia un buon rapporto tra la spesa e la capacità di copertura e una congruenza economico finanziaria in riferimento ai risultati da raggiungere in più se ha anche delle sponsorizzazioni altri sostegni è chiaro che dimostra di essere un progetto particolarmente solido a cui noi guardiamo con estremo favore venendo alla speculare legge 21 del 2022 sul cimiterio appunto sempre all'articolo 2 sono destinatari del riconoscimento gli edifici e monumenti i cimiteri con la presenza di edifici e monumenti di rivalenza storico-artistica e valenza storico-culturale come luogo della memoria collettiva che abbia uno svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo nell'ultimo triennio l'apertura al pubblico con una gradualità appunto per i comuni più piccoli di almeno 150 giorni all'anno per quelli con scusate per i comuni con più di 15.000 abitanti 150 giorni all'anno con quelli di meno di 15.000 abitanti per almeno 75 giorni all'anno anche non continuativi su appuntamento poi anche la gestione economico finanziaria anche qui è identicamente come per gli illustri un criterio importante e deve avere le voce di entrate di spesa distinte tra le spese di funzionamento ordinario rispetto a quelle per la valorizzazione e promozione delle attività ecco i criteri di valutazione per le domande di riconoscimento ora i cimiteri sono la maggior parte tutelati o con vincolo oppure o pelegis quindi è più più semplice diciamo il loro percorso più lineare e comunque sono questi e il criterio più importante è sempre il primo cioè che ci siano edifici con rilevanza storico artistica e valenza storico culturale come luogo della memoria collettiva alcuni hanno già da qualche anno in corso attività di valorizzazione ma altri si si affacciano attualmente quindi per quelli che si affacciano chiaramente vedete che il punteggio per il riconoscimento è molto alto così come l'apertura al pubblico è alta e la gestione economica è importante ecco sicuramente molto importante ecco i soggetti beneficiari dei contributi sono appunti o i cimiteri che o i loro gestori che prevedano attività iniziative coerenti con le finalità della legge essi possano siano stati riconosciuti essi possono beneficiare di un contributo a sostegno di attività di promozione culturale facendo contestualmente alla domanda di riconoscimento la richiesta con riferimento specifico a iniziative e progetti di valorizzazione da realizzare nel corso dell'anno 2024 così come stessa cosa che per gli illustri possono fare domanda di contributo senza domanda di riconoscimento tutti quei cimiteri che sono stati riconosciuti nel 2023 i criteri per la valutazione dei progetti allora sia per i cimiteri sia per gli illustri il riconoscimento come vi dicevo prima è fatto da un nucleo di valutazione interno di esperti del settore patrimonio culturale mentre quello per la valutazione dei contributi dei progetti di attività di valorizzazione con contributo si avvale di un esperto esterno diverso dai cimiteri agli illustri ovviamente quindi sono due esperti che ci affiancheranno nella valutazione dei progetti stesso peso che abbiamo visto per gli illustri come primo valutazione come primo criterio di valutazione dei progetti il primo in cui si ravvisa la coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicate dalla legge 21 del 2022 è determinante così come l'innovazione e la qualità della proposta progettuale e la ricaduta anche territoriale di questo progetto anche qui progetti che includono soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità sono molto importanti soprattutto proprio perché è un luogo pubblico il cimitero molto frequentato per cui l'accessibilità è molto importante e benvengano progetti che riescano a coinvolgere anche l'utenza giovanile e la sostenibilità finanziaria è estremamente importante nel suo equilibrio di rapporto tra spesa e capacità di copertura finanziaria ecco quindi l'ultimo focus sulle attività finanziabili da entrambe le leggi per l'anno 2024 niente è cambiato rispetto a quanto elencato dalla legge e quanto è stato fatto nel 2023 se non che per gli illustri abbiamo al punto 4 da non ci tengo sottolineario perché non vorrei che fosse una sfumatura che si possa interpretare diversamente da quanto sto dicendo allora abbiamo interventi di conservazione preventiva e restauro limitatamente alla fase di progettazione per entrambe le leggi ecco mi raccomando limitatamente alla fase di progettazione cioè se c'è se qualcuno o qualche struttura qualche istituzione cimiteriale ha un nel cassetto un progetto o si deve far fare meglio la conservazione preventiva dei monumenti o delle opere d'arte questo può essere annoverato tra i progetti finanziabili però limitatamente alla fase di progettazione non all'esecuzione faccio un altro focus sul punto 15 sull'ultimo punto per gli illustri progetti per la creazione di reti tra case e studi delle persone illustri dell'Emilia Romagna invece per quanto riguarda i cimiteri progetti per la creazione di reti tra cimiteri monumentali storici non solo regionali europei ma anche quelli collegati alla rete Asce ecco le reti sono state in questi la creazione di reti è stata particolarmente incentivata in questi due bandi per quest'anno quindi volevo porre la vostra attenzione a queste due novità e ricordarvi proprio sulla scorta di quest'ultimo discorso proprio riferito alle reti sia la legge per gli illustri sia la legge per i cimiteri hanno un articolo dedicato per la cooperazione per la valorizzazione ossia i gestori delle strutture riconosciute si impegnano nei limiti delle possibilità anche di organizzare forme di cooperazione sul territorio promosse dalla regione per la valorizzazione e l'interpretazione la divulgazione lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l'identificazione e valorizzazione di interiari culturali intesi come percorsi materiali che si raccolgono intorno ai temi di interesse culturale storico artistico sociale e naturalistico sviluppando paesaggi culturali a cui noi teniamo molto e crediamo nel loro sviluppo al fine di un patrimonio culturale regionale condiviso e diffuso vi preghiamo di scriverci alle mail che vedete ci sono due caselle postali dedicate a cui noi rispondiamo sempre e in maniera meditata perché a volte cercandoci telefonicamente presi da mille cose non riusciamo o a rispondervi oppure a rispondermi esattamente in maniera meditata come vorremmo io vi ringrazio a questo punto lascio la parola a Maura Murizzi grazie a tutti bene allora parto io avrò un po' il ruolo del notaio trovo a condividere lo schermo ok aspettate non riesco ad andare avanti allora intanto un cenno sulla piattaforma informatica che andrete ad utilizzare che è l'XForms e che è più semplice di altre piattaforme utilizzate dalla regione per altri avvisi e dunque è piuttosto semplice se avete fatto dei tentativi nella compilazione dal momento che è tutto più o meno guidato e lo svantaggio però di questo sistema è che non scusate lo svantaggio di questo sistema è che non tiene conto delle due fasi di presentazione della domanda e di presentazione del rendiconto quindi dovrete per due volte ripetere i riferimenti del titolo del progetto dell'anagrafica del referente del progetto perché appunto non riusciamo ad avere questa catena di montaggio la cosa però può costituire un vantaggio laddove nell'arco di sei o nove mesi cambi per esempio il dirigente del comune che presenta la domanda oppure il presidente dell'associazione poi provo ad andare alla successiva un'altra cosa di cui dovete tenere conto è la differenza tra il compilatore e il firmatario su elixforms si può accedere con speed e può farlo chiunque appunto abbia lo speed normalmente il progetto viene scritto e compilato in tutte le sue varie fasi dal referente che non è necessariamente il rappresentante legale dell'ente e dopodiché arrivati diciamo alla penultima pagina quando avrete compilato tutto avrete una domanda che è in forma di bozza che naturalmente potete rivedere a quel punto potete scaricarla e firmarla digitalmente se siete voi stessi i rappresentanti legali dell'associazione o i dirigenti con potere di firma del comune nel caso che non fosse così la domanda appunto va scaricata inviata al firmatario che dovrà firmarla con firma presumibilmente meglio elettronica può essere naturalmente anche autografa dopodiché ricaricata sul sistema e inviata a noi per la protocollazione un'altra indicazione generale può essere banale ma soprattutto nel caso dell'avviso dei cimiteri laddove partecipano imprese private insomma è importante che qualunque istanza di contributo alla pubblica amministrazione preveda la marca da bollo da 16 euro io qui ho riepilogato diciamo la normativa per gli enti che sono esenti dal pagamento della marca da bollo tutti gli altri cioè le associazioni che non fossero iscritte ai vari registri del terzo settore oppure le imprese private sono tenuti a fare domanda appunto alla pubblica amministrazione con la marca da bollo se ve la dimenticate se non la ponete in fase di controllo formale procediamo sicuramente a sanare le cose sarebbe però giusto che insomma la marca da bollo presentasse una data coerente diciamo col termine di apertura delle domande allora provo ad andare oltre la durata dei progetti sull'avviso è molto chiaro il fatto che i progetti devono essere realizzati nell'anno 2024 che non sono ammesse le proroghe e che avete tempo per la produzione eventuale di documenti solo diciamo per il primo mese e mezzo del 2025 tutto ciò deriva da una legge nazionale cioè nel 2011 è subentrato un decreto legislativo che è il 118 che ha obbligato tutte le pubbliche amministrazioni comprese la regione chiaramente a impegnare e spendere dei fondi nello stesso anno solare questo allo scopo potete ben capire di non farvi di non incamerare noi e di non far incamerare ad altri dei soldi che costituissero poi un tesoretto da utilizzare negli anni successivi questo è il motivo per cui assolutamente tutte le attività che voi proponete devono essere realizzate nel corso dell'anno nel caso che faceste un'iniziativa il 20 di dicembre o il 31 di dicembre e questa prestazione vi viene fatturata a gennaio ammettiamo appunto i documenti che avessero data tra il primo gennaio e il 15 febbraio dell'anno successivo un'altra cosa che è specifico e che comunque è scritta a chiare lettere nell'avviso è che i progetti che fossero già stati realizzati anche conclusi entro il 15 di aprile che è la data che abbiamo messo come scadenza per la presentazione dell'avviso non saranno ammessi questo perché come vedremo più tardi insomma la regione tiene ad avere un ruolo sia nella presentazione ma anche nella direzione a volte di questi progetti e sia anche a livello insomma di pubblicitario insomma di poter apporre il proprio logo e allora gli accordi di rete come diceva Claudia sono molto incentivati dalla nostra amministrazione presentano però delle complicazioni di tipo tecnico e quindi a chi intenderà utilizzare i progetti di rete insomma chiedo di di seguirci con attenzione intanto per un progetto di rete occorre che tutti i soggetti devono concorrere al medesimo progetto a livello finanziario oppure progettuale e operativo nel caso degli enti pubblici non ci si può limitare ad un contributo di tipo operativo al progetto ma sarà necessario che vengano come dire stanziate anche delle risorse che devono permanere sia in fase di preventivo che in fase di consuntivo peraltro per l'avviso degli illustri in particolare questo percorso è praticamente obbligatorio per le strutture o per le case museo che magari sono in gestione a una famiglia o agli eredi dell'artista la quale famiglia non si è costituita in associazione non si è costituita in archivio poiché la regione non può dare dei contributi direttamente ad un soggetto privato il passaggio per il comune di residenza è appunto praticamente obbligato per poter accedere al contributo diverso è per il riconoscimento per il riconoscimento si può procedere in autonomia anche se non si è costituiti in associazione allora tornando all'accordo di rete come come si fa come si scrive noi non abbiamo proposto dei modelli anche perché spesso i comuni gli accordi di rete li fanno e quindi insomma hanno sicuramente tanti modelli a cui riferirsi l'importante è che naturalmente la scrittura sia appunto l'atto sia in forma scritta che venga sottoscritto da tutte le parti in gioco quindi non basta una dichiarazione del comune che dice io più le due seguenti associazioni faremo il tale progetto e poi la firma è solo del comune no occorre che la scrittura sia firmata da tutte le parti che venga indicato l'onere finanziario che ciascuno assume su di sé e o eventualmente anche gli impegni insomma e le tipologie di attività che ciascuno farà poi questa è una particolarità di quest'anno che vuol dire che il medesimo soggetto può partecipare ad un solo accordo di rete o comunque ad un solo progetto quindi nel caso di un comune che abbia più strutture museali diciamo non parliamo di cimiteri insomma che abbia più case degli illustri occorrerà puntare per quest'anno su una sola casa infine un'altra novità di quest'anno che ci deriva dall'esperienza dell'anno scorso e che per gli accordi di rete bisognerà naturalmente individuare un capofila e tutte le spese di progetto devono essere realizzate e sostenute solo dal capofila il quale poi regolerà i suoi rapporti finanziari in un secondo tempo e dicevamo che siamo stati costretti ad introdurre questa clausola perché quest'anno abbiamo visto delle rendicontazioni miste e cioè in cui c'erano delle spese che erano state sostenute dal comune e per i comuni sapete bene che l'IVA rappresenta un costo non è deducibile non è detraibile e nello stesso rendiconto c'erano spese invece sostenute da imprese private per le quali l'IVA non era un costo e allora lì abbiamo dovuto chiedere delle specifiche delle integrazioni delle dichiarazioni per essere sicuri di non andare a rimborsare appunto delle spese che non fossero delle spese reali e in più la regione è tenuta ad effettuare a campione alcuni controlli che riguardano i documenti di regolarità contabile oppure dei controlli antimafia e naturalmente siamo legittimati a farli solo rispetto al soggetto al quale diamo direttamente il contributo e nel caso dell'accordo di rete in qualche modo si aggirava la possibilità di fare questi controlli per cui la nostra ragioneria ci ha imposto questa clausola allora andiamo al bilancio preventivo entrambi gli avvisi prescrivono che i bilanci di un progetto siano redatti in pareggio per cui facendo l'ipotesi del progetto da 20.000 euro in cui il massimo contributo della regione può arrivare all'80% il vostro progetto per la parte delle entrate prevederà per 16.000 euro un contributo regionale e per i restanti 4.000 occorre che ci sia almeno un'altra fonte se ci fossero sponsorizzazioni biglietti o altro tanto meglio se non c'è nulla bisogna che l'ente l'associazione con risorse proprie metta il differenziale anche se materialmente non esce dalle vostre casse questo differenziale perché in realtà ce lo avete già in pancia per il principio appunto del pareggio di bilancio occorre che lo indichiate può sembrare una cosa banale però l'anno scorso soprattutto sui cimiteri insomma abbiamo fatto fatica a ricevere dei preventivi che fossero a pareggio restando sul contributo regionale volevo specificare questo e cioè che per quanto sia scritto nell'avviso che appunto il contributo massimo della regione può arrivare all'ottanta per cento del costo di progetto in realtà sappiate che questo ottanta per cento dipende da tanti fattori dipende un po' da quanto e naturalmente da quanti sono i concorrenti che si spartiscono questa torta se sono 15 come è capitato l'anno scorso per i cimiteri riusciamo diciamo agevolmente a dare a tutti il massimo contributo richiesto se iniziano a diventare tanti evidentemente non è possibile e in più c'è il fattore graduatoria naturalmente daremo una premialità maggiore a chi si classifica nelle posizioni alte della graduatoria quindi potranno aspirare ad avere il massimo del contributo richiesto per tutti gli altri è possibile che in realtà il contributo sia anche di molto inferiore a quanto richiesto e lì dovrete decidere se rinunciare a realizzare il progetto con una rinuncia al contributo oppure impegnarvi a coprire la differenza in fase di domanda ciascuno di voi comunque sarà obbligato a fleggare questa dichiarazione e cioè nel caso in cui il finanziamento regionale risultasse inferiore a quanto richiesto il soggetto titolare e gli eventuali compartecipanti si impegnano a coprire la differenza restando sempre sul bilancio riprendendo quello che vi avevo detto prima fate attenzione all'IVA soprattutto appunto per quanto riguarda le imprese private che faranno domande sui cimiteri se l'IVA per voi non rappresenta un costo non deve essere inserita né diciamo nei vostri calcoli del preventivo né tantomeno a consuntivo quando rendi conterete le spese le spese non ammissibili ve le ha elencate Claudia sono riportate tutte all'articolo 8.2 di entrambi gli avvisi anche anch'io appunto punto il focus sulle esclusioni quindi interventi per la rimozione di barriere fisiche e progetti che prevedano lavori inerenti d'edificio non riusciamo a coprirli con questo avviso non abbiamo risorse abbastanza grandi idem per gli interventi di salvaguardia e di restauro così come pure non saranno ammesse a differenza di altri bandi regionali spese generali di funzionamento dell'ente qualcuno di voi che abbia fatto domanda su altri avvisi sa che per esempio in una misura percentuale rispetto al progetto viene rimborsato l'affitto della sede oppure le bollette non è il caso di questi avvisi che puntano ai progetti di valorizzazione dunque per quanto riguarda le variazioni al progetto vanno comunicate via PEC quando ci siano variazioni sostanziali e sul sostanziale ci si può intendere l'idea è sempre di sentirci telefonicamente prima di far partire comunicazioni formali in modo da verificare insieme appunto se sia il caso di inviare una PEC oppure no e comunque sono sicuramente variazioni sostanziali la modifica o la decadenza di un partner o di uno dei partner e la variazione dell'impegno finanziario perché può essere che in fase di preventivo si dica non so il soggetto X metterà 5.000 euro e poi magari viene meno il suo impegno e anche questo naturalmente è una variabile molto importante oppure dicevamo la rinuncia al contributo nel caso decideste di rinunciare tempestivamente bisogna fare una comunicazione formale via PEC il punto 10 punto 3 di entrambi gli avvisi ricorda che tra gli obblighi del beneficiario c'è quello di apporre il logo della regione Emilia Romagna su tutti i materiali che siano prodotti e che facciano riferimento al progetto finanziario quindi come minimo bisogna porre il logo regione Emilia Romagna se poi foste proprio molto bravi bisognerebbe scrivere anche oltre insomma oltre al logo progetto realizzato con il contributo della regione Emilia Romagna e poi la legge di riferimento questo insomma è l'esempio di un'altra legge se nel caso in cui doveste stampare del materiale oppure uscire con una pagina web prima di avere la certezza del contributo regionale ma vogliate mettere il logo della regione occorre procedere con la richiesta di patrocinio non oneroso e questa richiesta la gestiamo insieme alla segreteria dell'assessorato comunque basta inviarci una mail dopodiché vi diamo diciamo tutti gli estremi per la richiesta di patrocinio che comunque come dire non è vincolante dal nostro punto di vista non è vincolante poi sul successivo finanziamento e dunque la rideterminazione del contributo è un elemento che chiaramente si guarda in fase di rendicontazione ma vi invito a considerarlo fin da subito perché può essere utile anche nella programmazione del vostro budget cioè la regione vi dice da subito che rispetto a un progetto per esempio di 20.000 euro preventivato se anche voi andrete a rendicontare 16.000 euro la regione vi garantirà il contributo integrale che vi sarà stato assicurato in fase di delibera senza appunto provvedere ad alcuna diminuzione e quindi se volete potete considerarla una sorta di franchigia che insomma che può diventare molto utile nel caso in cui i vostri programmi cambiassero in corso d'anno e se invece la spesa sostenuta sul finale di anno dovesse essere superiore a questo famoso 20% il contributo verrà rideterminato ma solo dal 20% in su quindi appunto avete una sorta di bonus che naturalmente è più importante più è alto il costo complessivo del progetto e per finire qui ci sono tutti i nostri riferimenti appunto i responsabili dei due procedimenti sono per l'avviso degli illustri Cristina Ambrosini per i cimiteri Claudia e funzionario referente per i cimiteri che hanno le loro particolarità storico-artistiche Vittorio e io invece sono il referente amministrativo per entrambi gli avvisi e vi seguirò sia in fase di domanda di contributo occupandomi del controllo formale e sia in fase di rendicontazione Concio Giacomi Grazie Maura ci sono già delle domande per te io lascerei alla fine la spartizione delle domande che sono piuttosto consistenti e mi accingerei a dare la parola a Vittorio Ferrorelli che vi aiuterà a districarvi tra i siti sempre aggiornati e assai articolati a cui noi vi rinviamo Si blocca Vittorio Eccomi ci sono ogni tanto dei blocchi nella voce quindi magari avvisatemi se succede insomma È successo Vittorio con Claudia con Maura non è successo quindi speriamo forse un problema di rete Allora io condivido anch'io la mia presentazione Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutte Allora dunque io bellissima presentazione per capire dove mi situo io sono giornalista e faccio parte all'interno del settore patrimonio culturale del gruppo comunicazione che è un gruppo che si occupa tra le altre cose di gestire il sito web e i canali social collegati che vi ricordo sono Facebook Instagram X e YouTube e del gruppo fanno parte oltre a me Marielle Natosi Carlo Tovoli Manuela Cristoni e Beatrice Orsini che si occupa appunto in particolare del versante social Allora io comincerei rapidamente perché il tempo è veramente tiranno a farvi vedere in breve dove sono e come sono strutturate le due aree tematiche del nostro sito che sono dedicate alle case studi dalle persone illustri e ai cimiteri monumentali e storici per chi ha già fatto domande di riconoscimento l'ha già ottenuto magari sono cose già viste per chi invece si affaccia la prima volta a queste sezioni insomma possono essere indicazioni utili brevissima premessa quella che vedrete adesso quello che vedete qui in questa schermata è l'home page del nostro sito cambierà dal prossimo autunno perché avremo un nuovo una nuova versione web e perché la regione sta per passare a un'altra interfaccia più aggiornata con le esigenze di accessibilità secondo le indicazioni dell'Agi dell'Agenzia per l'Italia Digitale quindi insomma questo è l'aspetto attuale dal prossimo autunno avrà un aspetto un po' diverso decisamente migliore allora ecco le nostre due aree quindi ritorno un attimo indietro questa è l'home page con le notizie in primo piano scorrendo verso il basso trovate le aree tematiche e ho indicato qui con le frecce le nostre due aree le case studi delle persone illustri e i cimiteri monumentali storici inizierei dalla parte degli illustri appunto nella sezione degli illustri trovate sempre in primo piano dopo l'immagine diciamo di benvenuto il banner che in cui di solito mettiamo le informazioni più importanti del momento come vedete adesso il banner porta al webinar che stiamo tenendo appena possibile invece si aggiornerà e vi porterà al video youtube di questo webinar in un momento successivo quando l'avviso insomma avrà conclusione troverete gli esiti appunto degli avvisi che vi interessano quindi il banner è un po' il punto diciamo di attualità che vi può essere utile in cui trovare le informazioni più fresche e più importanti del momento continuiamo a scorrere la pagina verso il basso e troviamo una serie di box che danno conto dei punti chiave delle due leggi innanzitutto proprio la legge in questo caso la legge 2 2022 con il suo articolato poi il box sulla programmazione degli interventi appunto gli avvisi e i bandi come quello che stiamo affrontando adesso la procedura per il riconoscimento con i requisiti che Claudia vi ha illustrato poi abbiamo il libro guida che è il risultato del primo censimento che è stato fatto già nel 2022 un censimento che voleva registrare le strutture potenzialmente interessate al riconoscimento all'interno di questa pagina potete scaricare il libro in pdf liberamente scaricabile poi ancora il box sui paesaggi culturali che abbiamo preparato nel 2022 e che raccolgono le case degli illustri secondo i quattro grandi paesaggi che abbiamo individuato sul nostro territorio cioè la linea del mare le terre basse le prospettive urbane e le terre alte e infine una serie di pillole di illustri in pillole diciamo così in cui man mano con un work in progress cerchiamo di dar conto di tutte le strutture riconosciute ecco dopo questa serie di box trovate i luoghi veri e propri degli illustri e qui questi box divisi appunto per categorie artisti cineasti collezionisti eccetera vi portano direttamente a pater quindi al catalogo del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna in cui sono riportate tutte le schede dei luoghi censiti infine la pagina è chiusa da una striscia da una strip con i video il primo video che proponiamo è sempre quello realizzato da Luca Baciocchi con la nostra collaborazione e che si riferisce ai paesaggi culturali è una sezione in alimentazione costante quindi man mano che arrivano o vengono realizzati nuovi video li inseriamo in questa striscia ecco io tornerei un attimo indietro al box sul riconoscimento dove trovate naturalmente il riconoscimento di quest'anno la procedura in corso per il 2024 ma anche quella dell'anno precedente in cui naturalmente trovate le 52 strutture già riconosciute con il marchio naturalmente trovate l'avviso anche nella sezione questo è l'avviso che conoscete lo trovate anche nella sezione della programmazione interventi perché naturalmente il nostro avviso come vi ha spiegato Claudia ha due funzioni sia quella di riconoscere sia quella di assegnare contributi quindi naturalmente l'avviso si trova sia nella sezione degli avvisi e bandi quindi le programmazioni interventi sia nella sezione del riconoscimento è un doppione obbligato diciamo ma come ci insegnano gli esperti del web in questi casi la ridondanza è utile ecco stesso percorso quasi identico per la sezione dei cimiteri monumentali il banner di cui vi dicevo i box qui la differenza riguarda i box dell'ultima parte dove abbiamo raccolto i luoghi anche qui frutto di un censimento preventivo diciamo sui luoghi potenzialmente interessati dalla legge i cimiteri sono tutti suddivisi su base provinciale quindi li potete trovare tutti anche qui è una sezione in crescita perché sembrerà strano ma ci sono ancora cimiteri di cui il web GIS che è la nostra prima base di partenza quindi la banca dati del ministero della cultura continua ad alimentarsi naturalmente perché insomma ci sono censimenti e verifiche costanti su ciò che esiste sul territorio ma diciamo che 435 cimiteri potenzialmente annoverabili come storici e monumentali insomma sono un'ottima base una base piuttosto ampia poi abbiamo una sezione secondo me piuttosto utile con le risorse online riguardanti questo argomento in cui abbiamo raccolto siti portali video testi ma anche podcast che parlano raccontano danno conto dei cimiteri storici monumentali in Emilia Romagna naturalmente e infine una galleria di immagini in cui abbiamo raccolto una prima serie di fotografie dei cimiteri storici monumentali frutto della campagna fotografica realizzata dal collega Andrea Scardova anche qui come vedete la sezione è chiusa da una striscia dedicata ai video a questo punto passerei alla ecco qui naturalmente l'avviso la sezione riconoscimento porta sempre a riconoscimento 2024 da cui si arriva all'avviso in corso passerei quindi rapidamente a darvi conto delle notizie e come trovare le notizie su questi due argomenti nel nostro sito naturalmente si parte sempre dalla home page dove come vedete in evidenza ci sono sempre nove box con le notizie più recenti qui stiamo parlando di notizie che riguardano tutte le attività del settore ovviamente non solo quelle riguardanti gli illustri e i cimiteri qui se invece di voler vedere le immagini cioè scusate le notizie più recenti vogliamo vedere tutte le notizie pubblicate scorrendo verso il basso nella sezione vai a si arriva al contenitore delle notizie ed eccole qui naturalmente non sono aggiornate a oggi perché la schermata risale a qualche giorno fa se invece avete come giusto necessità di recuperare le notizie che riguardano il vostro settore di interesse quindi gli illustri e i cimiteri utilizziamo il tag che è uno strumento molto comodo da utilizzare anche per il sito web oltre che per i social come si fa molto semplice in tutte le pagine del sito non solo nel raccoglitore delle notizie ma anche in home trovate il riquadro con cerca nel sito cliccate sulla lente di ingrandimento a questo punto basta digitare nel riquadro parole chiave la parola chiave che vi interessa in questo caso case e studi delle persone illustri digitando le prime sillabe viene completata automaticamente specificate che volete vedere le notizie specificate anche se vi va l'ordinamento per data che io vi consiglio in modo che siano ordinate dalla più recente alla più risalente nel tempo ed ecco il risultato qui avete le notizie tutte le notizie pubblicate sul tema delle case studi degli illustri stessa procedura per i cimiteri quindi parola chiave cimiteri monumentali e storici notizie data ed ecco tutte le notizie sui cimiteri monumentali e storici qui avete due esempi di notizie tra le più recenti pubblicate questa riguarda due case illustri che hanno unito le loro forze a proposito appunto di progetti di rete si tratta del Palazzo Rosso Palazzo Rosso di Carlo Alberto Pizzardi a Bentivoglio e del museo casa natale di Guido Frabboni a San Pietro a San Pietro in Casale le notizie sono spesso dove è possibile corredate da video questa invece è una notizia riguardante uno dei progetti finanziati con l'avviso dell'anno scorso a Faenza al cimitero della Servanza due video che raccontano una visita guidata alla chiesa di San Girolo ma è anche per documentare i danni dell'alluvione qui vi ho preparato una brevissima carrellata di immagini sui progetti già realizzati questa è la mappa del territorio di cui vi dicevo realizzata tra Bentivoglio e San Pietro in Casale qui sempre sul tema illustri è un progetto di letture e visite guidate al centro studi Bassagnani di Ferrara i nuovi allestimenti del museo Francesco Baracca di Lugo è un progetto che verrà presentato lunedì prossimo quindi siamo proprio sull'attualità si intitola Nella casa di Arturo e si parla naturalmente di Arturo Toscanini il museo casa natale Arturo Toscanini a Parma presenterà una guida illustrata a fumetti è un'app per i cimiteri vi ho selezionato un'immagine proveniente dalla villetta di Parma che ogni anno da alcuni anni organizza questa rassegna che si intitola Città della Memoria una visita notturna al cimitero di San Giovanni in Persiceto un progetto molto interessante realizzato a Guastalla si intitola Cimitero Ero Dunque Sono e consiste in un progetto di catalogazione delle lapidi e anche di restauro delle lapidi realizzato in collaborazione con gli studenti quindi sinergia tra comune scuole del territorio il video della chiesa dell'osservanza della chiesa di San Girolamo l'osservanza di Faenza di cui vi parlavo e questa è la galleria adesso le ultime indicazioni praticissime per agevolarci nella preparazione delle notizie diciamo che la necessità che abbiamo è quella sempre di programmare con anticipo le notizie perché come vi renderete conto non ci occupiamo solo delle notizie riguardanti gli illustri e i cimiteri ma copriamo tutte le attività del settore quindi è importante per noi avere testi e immagini dei progetti che realizzerete con un congruo anticipo quindi la prima indicazione è proprio questa quella di informarci per email con anticipo degli esiti e degli eventi collegati ai vostri progetti questo è l'indirizzo che trovate anche nel nostro sito del gruppo comunicazione che è patrimonio culturale news chiocciolaregione.emilia-romagna.it altra raccomandazione pratica molto utile per i social è quella di inserire nei vostri post social sempre il tag alle nostre pagine facebook e instagram in modo da avere traccia dei vostri eventi in ogni caso diciamo che per richieste o consulenze specifiche sui social potete fare riferimento alla collega Beatrice Orsini che è molto esperta in materia e l'indirizzo è beatrice.orsini chiocciolaregione.emilia-romagna.it e io direi di aver concluso grazie grazie Vittorio mi sembra che abbiamo esaurito lo spettro delle casistiche ci sono alcune domande e se ad alcune non rispondiamo in maniera esaustiva lo potremo fare via mail ma molte sollecitazioni che ci date verranno poi trasposte nelle fac di entrambi gli avvisi che troverete appunto sui siti appena illustrati da Vittorio non so se Cristina vuoi dire qualcosa o procedo con la lettura delle domande io direi di dare spazio appunto alle domande proviamo a rispondere e poi se c'è modo qualcuno vuole intervenire ne approfittiamo di questo momento sono ancora tutti collegati quindi voi siete stati molto chiari e quindi adesso vediamo lo riscontriamo subito bene ce ne sono subito due che poggerei a Maura come domande e si tratta di due cimiteri che vorrebbero attuare dei progetti di sicurezza e quindi uno ha in affidamento delle piante ad alto fusto che deve mettere in sicurezza all'interno del cimitero e chiede se è ammissibile come spesa un altro vorrebbe avviare un percorso di fruibilità installando una rete wifi all'interno del cimitero stesso automatizzando l'apertura del cancello esterno per poi in un prossimo futuro permettere le visite tramite l'applicazione dedicata alle suddette categorie di disabilità l'automazione verrebbe installata che verrebbe installata non è di loro proprietà e si chiedono se tali spese siano ammissibili o meno maura a te la parola allora sono domande ultra specifiche secondo me è un po' improprio dare adesso visto che ci sarà un nucleo di valutazione io li inviterei a presentare il progetto e poi facciamo le nostre rispondo intervengo io allora secondo me e a questi due questi due quesiti molto articolati e che denotano appunto un'attenzione a sviluppare questi luoghi come paesaggi culturali luoghi culturali va detto subito che come diceva maura prima come spiegava noi abbiamo questo questo budget che è sui capitoli di spesa corrente quindi noi possiamo sostenere attività ma non lavori attività ma non lavori per cui tutto ciò che implica un'attivazione in termini di interventi di lavori noi non lo possiamo sostenere come aveva spiegato bene anche maura giustamente maura dice presentate il progetto tenente conto di questo soprattutto per la seconda domanda cioè ausili strumenti di accessibilità che favoriscono l'accessibilità allora se noi parliamo di strumenti che non prevedano installazioni permanenti o realizzazione di una strumentazione che vada a incidere sulla struttura e questo nel campo dell'accessibilità può essere perché io potrei avere un'app potrei avere un pannello da cui posso scaricare un QR code e rendere possibile l'ascolto di una narrazione potrei avere una messa a disposizione sul sito di materiale che vado a distribuire in occasione dell'apertura della visita ecco tutto questo fa parte della spesa corrente ma lavori e quindi installazioni legate all'apertura e cancello automatico sono molto borderline per il nostro budget da una parte ma anche proprio per come è stato pensato l'avviso con le tipologie finanziabili in questi primi anni di applicazione di queste leggi è corretto richiamare il fatto che entrambe le leggi prevedono anche nella formulazione il sostegno non solo ad attività ma anche ad aspetti più consistenti ma nella prima fase di attuazione questi primi tre anni la regione ha scelto di entrare gradualmente nell'accompagnamento allo sviluppo delle case degli studi degli artisti e dei cimiteri intesi come luoghi culturali cominciando a rafforzare la possibilità di queste strutture di sentirsi vivere e proporsi come luoghi di fruizione pubblica culturale e quindi siamo in grado con il budget che abbiamo a disposizione di migliorare incrementare quantitativamente e qualitativamente le aperture le visite guidate esperienze artistiche integrate intrecciate alla realtà di questi di questi luoghi e altro ancora ma non lavori intese come codice dei contratti degli appalti e dei servizi grazie Cristina ce n'è un'altra sempre sulla possibilità di partecipazione da parte di un gestore del cimitero che è gestore sia del Piratello di Imola sia del cimitero di Medicina e chiede può Area Blu inviare domanda di contributo per un progetto al Piratello e una seconda per il progetto Medicina sei muta devi accendere scusa sì dico i luoghi sono differenti le spese con buona con ottima probabilità saranno differenti quindi direi di sì ah Cristina non hai tu il microfono per essere rispettosi di questa formula online ci ammutoliamo senza volerlo no volevo dire mi veniva in mente che se il gestore è il medesimo per più luoghi potrebbe anche essere se interessa se va incontro alle esigenze una sperimentazione di progetti di rete non troppo complicati perché in realtà vanno in rete i luoghi ma il soggetto gestore potrebbe essere lo stesso in questo caso ma è solo una suggestione c'era un'altra domanda la prima Claudia poi c'era una mano alzata a meno muta sì tu muta a una ho risposto quindi abbiamo evaso era molto dettagliata invece questa che avanza è un privato è molto articolato che ha ereditato la casa e produzione di un illustre locale non ha ancora partecipato al riconoscimento è interessato a sapere se è riconosciuta come casa museo se una casa riconosciuta come casa museo possa essere abitata dai proprietari sì inoltre si domanda se la struttura qualora fosse riconosciuta come casa sia poi soggetta a vincoli particolari dipende dai vincoli di interesse culturale ad esempio dopo qualche anno sarebbe possibile venderla ha senso fare questo processo se poi l'intenzione è quella mi verrebbe da dire qualora si debbano attuare opere di ristrutturazione bisogna sottostare a vincoli particolari io ho già risposto nel corso Cristina se vuoi aggiungere sì allora è evidente che noi stiamo parlando di patrimoni che hanno un valore culturale che distinguiamo in questa precisa accezione dall'interesse culturale che è normato e quello che porta a tutele e a provvedimenti ai sensi del codice dei beni culturali vale a dire decreto legislativo 42 del 2004 ci sono realtà all'interno soprattutto delle case e degli studi perché per i cimiteri al 95% parliamo di contesti che sono già riconosciuti di interesse culturale ok ai sensi del codice dei beni culturali invece per quanto riguarda le case e gli studi degli illustri le case di proprietà pubblica aventi più di 70 anni sono comunque tutelate per legge ma ci sono molte situazioni a cui la regione intende previa valutazione e riconosce un valore culturale e che quindi possono ambire al riconoscimento di cui appunto ha parlato Claudio che porta al marchio e alle possibili esposizioni anche a volte prescindendo dall'esistenza di uno strumento di tutela inteso come dichiarazione di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali quindi i vincoli nel recupero restauro ristrutturazione se non è vincolato della casa non dipendono da questa legge dipendono dal fatto che l'edificio sia o meno tutelato ai sensi della legge statale il riconoscimento nostro che è un riconoscimento valoriale di patrimonio che è significante e continua ad esserlo per la realtà Emiliano Romagnola per le comunità per quello che rappresenta e continua a rappresentare vivificando lo sviluppo culturale locale regionale nazionale abbiamo delle case illustri di premi Nobel abbiamo case illustri assolutamente molto noti altri più localizzabili ma comunque per noi pregnanti dicevo il riconoscimento una volta acquisito non dura in eterno ma ha una validità a scadenza triennale giusto? quindi significa che delle trasformazioni che possono essere sicuramente legittime da parte dei proprietari implicano delle scelte quindi la casa potrebbe essere venduta ma portarsi quindi alienata ad altri soggetti privati o soggetti giuridici di altra natura ma mantenere quell'autenticità del genius logis che passa in custodia diciamo così altri soggetti quindi è questo che noi andiamo a verificare che sussistano perché permangano queste caratteristiche che possono comunque permanere anche se la proprietà passa a un altro soggetto diverso invece se la dimora la casa dovesse arrivare a subire delle trasformazioni tale o essere anche solo parzialmente depauperata di quel contesto che ha contribuito sostanzialmente a riconoscere le caratteristiche di casa e studi di una persona illustre quindi è un processo che appunto non si fa una volta ma si ripete se c'è interesse uno potrebbe non trovarsi rinnovato dopo tre anni o sei anni perché diciamo i soggetti gestori o proprietari hanno smesso di sentirsi viversi e proporsi come luogo di cultura e quindi con la fruizione pubblica e quindi verrebbero meno dei requisiti tra cui appunto i criteri più importanti che sono quelli che aveva inizialmente ricordato Claudia grazie Cristina io a questo punto chiederei a Maria Elena Tosi di assistimi per liberare i nostri utenti dal mutismo e poter dar loro la parola palesandosi e interloquendo con noi Maria Elena sì è un webinar per cui io posso dare la voce a una persona alla volta ecco sì alla persona che ha alzato la mano sicuramente che io non la vedo Denise Toselli sì Denise Toselli lo posso fare anch'io sì dai tre puntini vediamo consenti il microfono sì ecco benissimo signora Toselli può parlare e temo che non funzioni non è non è possibile perché se due e binar non è possibile dare la voce al partecipante può scrivere invitiamo a scriverci in chat almeno un assunto di quello che avrebbe voluto esporre a voce e poi comunque ci possiamo sentire ci può scrivere o la metto come relatore sì altrimenti tutte le persone che vogliamo far parlare devono essere nominate relatore sì proprio eh può parlare Denise sì ho attivato il microfono buongiorno buongiorno buonasera buonasera mi chiamo Stefano mezzadri intanto per Alma Finale SPS siamo il gestore del cimitero ebraico di Finale Emilia e ho fatto le domande riguardo le piante dell'alto fusto in questo senso siccome le piante sono all'interno del cimitero e per rendere in sicurezza l'area per poterla rendere usufruibile è indispensabile sono indispensabili le potature sistematiche annuali e ripetute e fino adesso le ha fatto un socio anziano che ha una una ditta che fa questi lavori li faceva praticamente come volontariato gratuitamente però ci troviamo di fronte a queste cose che in un futuro prossimo avremo bisogno di questa di questo tipo di manutenzione proprio per rendere usufruibile l'area era solo questo la domanda per se si poteva inserire all'interno del progetto cioè non è una cosa è proprio funzionale perché una pianta pericolosa non consente ovviamente l'accesso perché se abbiamo svariate mille di visitatori in un anno tra visite delle scuole siamo collegati al ciclo video del sole in questo momento e sì è solo questo prego scusate allora sto riflettendo a voce alta allora in questo momento secondo me visto che comunque potrebbe essere un'attività un progetto allora questa necessità diciamo così può essere anche intesa positivamente come un'attività che può coinvolgere determinate soggetti capito titolati al di là della ditta specializzata che lo fa ma potrebbe investire per esempio una scuola un'agraria o coloro che hanno per esempio frequentato i corsi di giardinieri d'arte potremmo cioè dovrebbe potersi presentare come un progetto no di manutenzione ma anche di tipo formativo per cominciare a riavvivire sì ravvivare l'esperienza nel cimitero anche con questa attenzione alla parte naturalistica legata alla vegetazione diciamo pura manutenzione attività di questo tipo sulla parte vegetale facciamo un po' fatica la dobbiamo costruire ma possiamo approfondire la cosa su questo caso perché mi rendo conto che soprattutto per i cimiteri o per le case che abbiano un'area verde o un parco noi ne abbiamo e ne abbiamo aspetti legati alle aree esterne possono venire avanti in maniera consistente siamo disponibili a ragionarci ecco Tullio Caselli adesso vado a cercarlo ecco signor Caselli può parlare signor Caselli e può parlare dovrebbe attivare il suo microfono al momento è chiuso non posso farlo io perché l'ho messa come relatore quindi deve farlo lei di attivare il suo microfono Maria Lelena aiuto ho disattivato l'audio di tutti per riattivarlo e adesso non so come fare sto provando ecco ce l'ho fatta forse però non riesco a fare nulla per il signor Caselli se puoi provare tu sì sto provando ma non riesco ad abilitare il suo microfono signor Caselli vuole scriverci se oltre il signor Caselli ci sono altre persone che vogliono fare domande Viola e Maldi allora non riescono a parlare sì la signora Maldi adesso può parlare se gestisce lei il suo microfono però sì buonasera a tutti intanto vi ringrazio molto per questo webinar che è stato molto utile io sto valutando la possibilità di richiedere riconoscimento come famiglia e quindi volevo chiedere a proposito qualche approfondimento però non vorrei prendere tempo in questa sede quindi chiedevo se fosse opportuna magari una mail con alcune domande specifiche poi in seguito magari una telefonata di approfondimento è la modalità giusta certamente sì grazie benissimo grazie a lei sera a tutti abbiamo sospeso signor Caselli vero? che non riusciamo riprovo ma Mara Vincenzi allora adesso le consento ecco Mara parli pure deve attivare il suo microfono però l'ha disattivato Mara deve cliccare sul microfono per attivare il suo Mara può parlare sa? mi dispiace noi non possiamo far nulla se non se lei non attiva il suo microfono ecco adesso è attivato ecco Mara perfetto no l'ha ridesattivato Mara riprovi a cliccare come era riuscita a fare ecco dunque intanto abbiamo Isa Gambetta anche nel frattempo che forse riesce a ecco Isa può parlare grazie di tutto innanzitutto molto utile io volevo chiedere se è possibile se è la sede un approfondimento in relazione al punto 1 come scrivevo poco fa relativamente all'attività e progetti cioè il significato un po' amplificato di fruizione pubblica e comunicazione come può essere interpretata appunto che l'attività che viene svolta il progetto che viene proposto deve corrispondere a un'ampia possibilità di fruizione pubblica e comunicazione quindi che noi ci attiviamo come fondazione con la comunicazione relativa questo è significato fondamentalmente grazie dunque l'importante è che il progetto sia centrato su l'illustre non non deroghi e non sulle derivazioni no le derivazioni devono avere comunque un riflesso potente dell'illustre e conoscendo la situazione di cui parliamo l'illustre deve ancora essere valorizzato conosciuto diffuso che stiamo parliamo di fatti di fatti la 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 fruizione deve essere la fruizione dei materiali conoscitivi dell'illustre e la comunicazione del progetto di cui questi materiali hanno fatto parte o la casa o insomma aspetto che ritorni essere cioè le derivazioni possono essere contemplate se servono a potenziare il genius loci in questione cioè vanno a potenziamento non che si da comunicazione diffusione fruizione pubblica di derivazioni del genius loci se prima non si è potentemente lavorato sul genius loci ecco quindi in qualche modo se non sto rubando troppo tempo no 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 anche può rientrare in questo bando una parte della ricerca che noi stiamo avanzando sull'illustre come ha risposto prima maura cioè il progetto bisogna vederlo non si può a monte dire l'importante che si faccia fuoco appunto su tutto ciò che concerne l'illustre non che ci sia una coerenza progettuale e una divulgazione potenziamento della fama e del patrimonio adesso connesso ecco della fama dell'illustre e del patrimonio adesso connesso quindi anche senso pensare che il punto 9 mi sembra che sia il punto 9 che prima ho recettito dall'immagine progetti digitali multimediali si possono intendere come anche le modalità di archiviazione di tutte le informazioni che abbiamo recepito sull'illustre a questo punto sì certo però sì deve essere inerente l'illustre ecco grazie infinito prego grazie anche a lei abbiamo una domanda di una persona che chiede avrei bisogno di capire se si fa richiesta di candidatura come famiglia oppure su un personaggio specifico della tale a livello di titolarità firmatario legale rappresentante come privati chi deve esserlo se i proprietari sono tre ne basta uno altra domanda una volta fatta la domanda di riconoscimento dobbiamo aver già allestito la casa ad hoc illuminazione specifica su pelletti gli oggetti arredi fissi possiamo farlo in seguito al riconoscimento ultima domanda come si registrano i biglietti incassati una volta ricevuto il riconoscimento grazie magari a queste domande come ho già risposto è preferibile via mail per dare una risposta più precisa a tutto mi sembra che non ci siano altre domande a meno che Mara non sia riuscita adesso a sbloccare vedo il microfono libero e potrebbe parlare Mara Vincenzi Mara niente ecco abbiamo una domanda per Maura come si accede all'applicativo Elixform per presentare la domanda è possibile avere il link prego quale dei due bandi interessa perché naturalmente gli indirizzi web sono differenti comunque l'aveva detto Vittorio il sito è patrimonio culturale in alto a destra visi e bandi e si entra dentro tutti i bandi aperti cimiteri adesso le recupero l'indirizzo a questo punto direi che possiamo terminare il webinar io ringrazio moltissimo la nostra oh c'è un'altra mano allora vediamo un po' Enrica Chierici prego Enrica parli pure buonasera io lavoro al comune di Parma e noi siamo stati diciamo accreditati come a casa degli illustri l'anno scorso per il museo casanatale toscanini ecco volevamo capire cosa si intendeva per interventi di restauro le fasi preliminari progettuali progettuali perché noi volevamo siccome abbiamo tanto materiale valorizzarlo e quindi andarlo a restaurare questa diciamo diciamo attività può essere ricompresa o allora il restauro dei materiali per essere attuato ha bisogno di un progetto di restauro che va comunque formulato da parte di un restauratore abilitato e va approvato dalla soprintendenza è evidente che è più facile spiegarsi per i progetti di restauro su immobili ma anche beni mobili ci potrebbe essere ma come succede una quantificazione di costi per l'elaborazione del progetto di restauro che contiene anche il preventivo cioè per mettere in condizione la casa di presentare il progetto e se fosse materiale tipo documenti documentazione fotografie solo sugli arredi intendiamo sono spese in conto capitale queste e quindi non sono nelle tipologie che non riusciamo a coprire fino a questo momento infatti per noi comunque è importante le segnalazioni che possono pervenire dalle case e quindi vi invitiamo a segnalarci proprio perché in vista dei bandi dei prossimi anni possiamo indirizzare maggiormente i nostri fondi anche su spesa corrente o spesa in conto capitale se rileviamo una necessità soprattutto ovviamente magari sui beni mobili che possono avere una quantificazione di restauri abbordabili rispetto al budget che ci danno capite perché se parliamo di restauri potrebbe essere anche una progettazione di una rivisitazione dell'ingresso come punto di etteria diciamo desktop sì esatto l'incarico a un progettista per un riallestimento una riprogettazione di uno spazio è ammesso perché è l'incarico di un progettista e quindi diciamo si sostiene un'attività propedeutica a un intervento che poi per potersi realizzare ha bisogno di coagulare altri finanziamenti ma allora in quel caso facciamo un passo alla volta diciamo così non è detto che poi il sostegno anche da parte della regione non possa venire su altre fonti su altri bandi però se parliamo di come diceva la dottoressa Collina di progetti cioè avete bisogno di poter finanziare uno studio di fattibilità o comunque un documento preliminare la progettazione o un progetto di allestimento questo sì lo possiamo finanziare lo possiamo contribuire ovviamente grazie prego ci sono altre domande se non ci sono altre domande io ringrazierei tutti i partecipanti la nostra responsabile che ha speso molto tempo con noi proprio la ringrazio molto e i miei colleghi che ogni giorno insieme sostengono questi due importanti progetti molto innovativi e a cui teniamo molto bene grazie a tutti allora se avete domande più specifiche scrivete come all'indirizzo che vi è stato presentato e ci date così la possibilità di prevedere risposte ad hoc per casi troppo specifici o magari formulazione di facca a disposizione di tutti grazie ancora e buon pomeriggio grazie arrivederci Maria Elena aiuto per terminare no non posso abbandonare devo terminare posso fare io se vuoi grazie sì grazie di cuore ok termina ringnue perfetto ciao a tutti grazie